Affidato definitivamente il servizio di gestione della piscina comunale di Torraca, prosegue l'iter dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Bianco per rimettere in piedi l'impianto sportivo chiuso dal 2019 quando subì grossi danni per il maltempo a vetrate e copertura. Grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Istruzione a fine 2023 partirno dei lavori di efficientamento della struttura con l'obiettivo di ridurre i costi di gestione. L'intenzione annunciata dall'amministrazione è stata sempre quella di rimettere in attività la piscina da quest'autunno e ora ultimati i lavori un deciso passo avanti è stato compiuto. Il responsabile dell'area vigilanza, il comandante Antonio Quintieri infatti ha determinato la giudicazione definitiva della concessione. A spuntarla e dunque a gestire la piscina per i prossimi 5 anni a fronte di un canone annuo di 1500 euro sarà la SDKO Sporting Club che fa capo a Vincenzo Ferraro, neopresidente del dopolavoro ferroviario di Sapri e gestore già dei campetti del DLF. Bisogna fare qualcosa per i nostri territori, ha detto, far funzionare gli impianti sportivi che abbiamo la fortuna di avere per il bene delle nostre comunità. Ora saranno necessarie una serie di interventi di sistemazione e probabilmente già nelle prossime settimane si potrà sapere di più circa la riattivazione della piscina e i tempi necessari.